presentazione di un laboratorio biblico linguistico pastorale per la diocesi di Barletta Trani questa proposta parte da una visione per svolgere una missione per raggiungere degli obiettivi e che comprendono la lettura della Bibbia nei testi originali e accessibili a tutti a quelli che hanno studiato e a quelli che non hanno studiato dobbiamo imparare a leggere la Bibbia come la leggono gli ebrei